Ciao 27 No, 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 non vuole io Ciao, come ti chiami? Simona Simona, da dove vieni? Da Rimini Ma da Rimini, tutta la tavolata di Rimini, anche tu? Ah, cattolica Tu cosa fai nella vita? Io lavoro, faccio consigliare Ok, e l'uomo ideale come lo vuoi? Che sia se stesso Un uomo che sia se stesso basta che balli Insomma, ragazzi, qua bisogna ballare Bene, ecco qua, vai Stasera si balla Ciao, di 33 Ecco qua, la 33, ragazzi Da dove vieni? Come ti chiami? Cosa fai nella vita? Lavoro Lavoro in comune, fantastico E come vuoi l'uomo ideale? Intelligente Sei venuto qua stasera? È vero Tiziano? Tutti, oh, stasera sono venuti tutti, eh? Neanche un bidone, anche uno in più È incredibile Non dico viene da pionio perché non voglio portarlo fino Speriamo che pure così Ce la stiamo facendo per un giorno Bene, bene, è fantastico Qualcuno di me Signori, fra un po' avete finito Riprendiamo le danze Si ballerà fino al mattino Adesso mettiamo anche il latino Ah, aspetta Che si va al latino Finchè non finiamo di mangiare Riprendiamo a ballare subito Ragazzi, anche un po' di latino Ci hanno detto, lo faremo Non c'è problema Io ho fatto un po' di latino Ah, esatto Scrivai Vai Vai Sì Grazie a tutti Grazie a tutti